Azione! Azione! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Boban Pesov Insieme a Greta, mia figlia Sì, ho una figlia Ed è... Che è successo? Siamo qui oggi per fare un disegno assieme Sarà molto difficile gestire tutta questa situazione Stavo dicendo Sarà difficile gestire tutta questa... Ok, bene Praticamente cosa andiamo a fare oggi? Semplicemente io dovrò continuare un disegno Iniziato da mia figlia Semplicemente lei andrà a pasticciare il foglio E io poi successivamente andrò a sbizzarrirmi Ho capito, ho capito No, 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 no Ma non puoi farlo con questi acquerelli Non sono mica scemo a darti gli acquerelli buoni Aspetta piano Guarda che se rovesciamo l'acqua è un disastro poi dopo Ok, ferma Ferma! Ferma! Voglio capire cosa stai facendo Aspetta! Mamma mia, non mi lascia tregua No, 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 no Io volevo filmarti mentre disegni Che cos'è quella roba? Ah, ha visto che c'è il pennello più grosso? Facendo così puoi fare macchie più grosse, hai capito? Con le note Hai scorreggiato? Ho sentito un... Guardate, blu, blu E' fatto Guarda Sì, guardo Guarda Eh? No, non devi pasticciare la fotocamera Guarda Cosa c'è? Cosa hai fatto? Ah Continua, dai Dai, continua Dai che creiamo una... Bobby, Bobby, Bobby Chiamami papà, non Bobby No, io ho paura che tu quest'acqua... No, 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 no Farà una brutta fine l'acqua Farà veramente una brutta fine l'acqua Secondo me Piano Ecco, brava Mischia sul giallo Brava Vai adesso sul foglio Al centro, qua, al centro Ma non lì Devi usare il foglio Giallo, giallo Giallo Non è giallo È giallo Giallo, giallo Giallo Siediti Siediti Devi essere comoda No, no Oh Ma sei bravissima Wow Che cos'è quello? Cosa? Cosa? Stai utilizzando troppi verdi Perché non usi un pochino il rosso? No, 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 no Non rovesciare l'acqua Perché sarebbe tipo un disastro Usa un po' il rosso Il rosso Ma? Come no? Eh, disegna anche qua al centro Brava Ma usa il pennello grande, scusami Il pennello... Oh, brava Brava Così ti voglio Pasticciona Brava Wow Vuoi provare questo? Me l'ha sminchiato Piccolo Cosa? Cosa? Eh, che ha detto? Ci aggiungo il rosso, dai Va bene? Ti piace? Scusami ma Greta Io come farò a continuare poi dopo questo disegno? Nel senso cosa ci... Cerchio Cerchio? E fai il cerchio, dai Non sembra un cerchio quello Cerchio? Più o meno Non lì, non lì, non lì Ma questo l'hai fatto perfetto C'è chi? Fai un quadrato Non è un quadrato Fanno un altro Quadrato No, un altro quadrato Dai, ti prego Dai, fammi il quadrato Non vuole fare più il quadrato Ok? Tanino Cos'è? Tanino Rosso YouTube Giallo 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 Che giallo Perché ci metti le R dove non ci sono? Ma non qua Non qua Qua sul foglio Il discorso che devi disegnare Oh, cosa hai fatto? Mi hai sporcato? Sì, ho capito Ho capito Ho capito Sei un deficiente Mettici un po' più di acqua Dai E mettici un po' più di impegno Su via Che artista sei? Rosso, guarda È un rosso Un rosso? E cos'è? Un cerchio? Cerchio Cerchio rosso Cerchio rosso È finito La tua opera è finita Così la vuoi lasciare Ti sei vista Ti sei vista in anteprima Nella telecamera Il Joker Cioè Che fai l'esibizionista Peggio del padre Mamma mia Niente Ormai ha deciso di guardarsi Tutto il tempo In anteprima Perché qua c'è Ho l'anteprima del PC Cioè Ho l'anteprima della fotocamera Che sta filmando noi due Qui proiettata sul PC E lei non smette più di guardarsi Si piace Si sente bella Fai un cuore Un cuore Lo sai Lo sai fare il cuore Dai Fai il cuore C'u 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 Fai c'u C'u cosa? C'u C'u cosa? Ma senti Dopo cosa andremo a disegnare qua sopra? Cioè Tecnicamente Dovevamo sfruttare tutte le macchie Per poter fare un disegno Vuoi che ti faccia un cuore? Te lo faccio con la sinistra C'u 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 Il 2 vuoi? 2 2 2 2 2 2 Quanti anni hai? 2 E mezzo 3 No 3 Non c'hai 3 anni 3 3 Poi? 3 4 4 5 5 5 5 Non fai La smetti di scorreggiare tutto il tempo 6 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 7 6 6 6 6 6 perché mi fai fare ste cose non so cosa ci potrei tirare fuori da tutta questa robetta sta cantando nella vecchia fattoria ma senti perché ti pasticci le mani adesso no la maglia oddio no no non toccare il joy il joystick se riuscite ad accendere la play e vai a giocare xero hai finito hai finito la tua opera e non posso devo continuare il video devo continuare ad intrattenere le persone che ci stanno guardando in questo momento che è successo noi adesso partendo da questo disegno ora vi faccio vedere cosa ha realizzato greta un'opera d'arte moderna ispirata a mirò ok al surrealismo e successivamente tutto molle il foglio bagnatissimo comunque lo lascio ad asciugare e poi successivamente andrò a realizzare un personaggio sopra lo farò decidere a greta cosa andrà e dimmi e spiro gioca spiro no mario non c'è sulla play mario spiro si mario no e all'improvviso greta ha deciso di giocare a spiro stai giocando a spiro bene ci siamo liberati di mia figlia e questo è un grandissimo risultato perché ora dobbiamo prendere semplicemente questo disastro che ha fatto lei e realizzare un'illustrazione iniziamo ah qui c'è la china wow quindi a questo punto potrei realizzare mia figlia perché no veramente sta avvenendo un disastro non si capisce niente di cosa sto disegnando ok il suo nasino a patata come il papà ha preso solo quello da me il naso ok prendiamo un bel pennello piatto non ci entra che questo dovrebbe entrare ok perfetto wow wow ce l'abbiamo fatta praticamente cosa ho fatto la cosa più semplice dopo aver realizzato una piccola bozza a matita velocissima ho deciso di ripassare con la china in modo grezzo come se fosse un personaggio di metal gear solid prossimo passo è quello di dare anche dei grigi magari giocare con i colori seppia e le ombreggiature in questo caso semplicemente si possono fare anche con la stessa acqua sporca che abbiamo in qualche modo creato io mia figlia mettendoci ogni cosa qua dentro quest'acqua sporca è parecchio sporca vieni qua opla allora ce l'abbiamo fatta mentre tu dormivi c'è un bottone sbottonato mentre tu dormivi chi è questa qua hai detto greta sì l'hai detto hai detto greta parpol perché lo dici in inglese non ha senso lo so lo so che lo sai filmiamoci boban peso e poi greta brava a mamma mettiamo anche mamma ok mettiamo un cuore questo è un cuore un po bruttino il cuore ma chi è naso poi col bianchetto diamo qualche luce non va dove trovare un colore bianco blu dove è il blu l'unico bianco è il coso quello che sto facendo non ha senso lo so no non sto disegnando un cuore e col bianchetto pritt si possono fare tante cose hai visto greta questo è il risultato piano piano mettiamolo qua vicino vabbè ve lo faccio vedere in anteprima qua da qualche parte il risultato finale siamo riusciti a fare la nostra opera a due mani quattro mani in realtà io ho usato solo una mano tu hai usato tutte e due vero sono io vi ringrazio per la vostra attenzione noi ci vediamo la prossima volta magari facciamo un'altra sfida io e greta facciamo un altro disegno in collaborazione che dici greta hai voglia di fare un altro video in futuro faremo sicuramente altri video assieme fatemi sapere nei commenti se vi siete divertiti vi ricordo che sono anche su twitch quindi potete andare a seguire le mie live qua sotto vi metto anche il programma e niente ci vediamo anche su twitch a questo punto ci sarà anche greta perché ogni tanto mi disturba mi interrompe mentre faccio le live e diciamo che la situazione è parecchio parecchio complicata e poi sono sicuro che qua sotto nei commenti google mi chiederà ma che bella maglietta pampling come sempre se usate il codice sconto boban 15 avete il 20 per cento di sconto sì boban 15 ma il 20 per cento di sconto non ha senso lo so però funziona così ok niente ci vediamo la prossima saluta greta di ciao 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 saluta la sono la di ciao fai così ciao 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 naso bocca 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 ciao ciao ciao